Buongiorno, bentornati e bentornate al secondo episodio di G-Tech, una serie in cui stiamo andando ad esplorare le caratteristiche tecnologiche di una moderna piattaforma assicurativa. Nel primo episodio abbiamo discusso le differenze tra un approccio di tipo buy ed un approccio di tipo build. In questo episodio andremo a sviscerare un po' più nel dettaglio un particolare approccio di tipo buy, ovvero quello delle piattaforme SaaS, software as a service, dove appunto la soluzione è installata in un'infrastruttura di tipo cloud e la sua gestione è in buona parte demandata al fornitore della piattaforma stessa. Qui con me c'è Marco Burattino, Customer Success Manager di Gaidoar Italia, con cui sempre mi diverto a fare discussioni anche di tipo filosofico e che ci aiuterà a dipanare un po' questa matassa. Quindi Marco, come dire, partiamo da un aspetto un po' didattico. Siamo entrambi fan delle cose spiegate bene del post e quindi ti chiedo di chiarire un po' meglio questo concetto di software as a service, perché alle volte è anche un po' fumoso e a seconda dell'ambito in cui lo si declina può cambiare un po' il significato. Ciao Ivano, grazie. Cominciamo facendo un passo indietro. La parola cloud sta subendo secondo me lo stesso tipo di effetto collaterale che ha subito 5 o 10 anni prima la parola digital, cioè ha perso e viene utilizzata talmente tanto che sta cominciando a perdere ogni significato e diventa difficile. Quindi per prima cosa, prima di arrivare a parlare di modelli as a service, secondo me è opportuno andare a ragionare su cosa è effettivamente il cloud, sgrossando senza andare troppo in profondità, cercando di restare magari più alti, un po' più generali. Agli occhi di un profano il cloud materialmente fa due cose. La prima è la somma di un concetto di dematerializzazione e delocalizzazione. Pensiamo a qualche anno fa quando ci portavamo la nostra musica o i nostri film sulla chiavetta USB o sullo storage esterno e invece pensiamo ad oggi che insieme al telefonino abbiamo tipicamente un abbonamento al cloud del fornitore, penso ai cloud di Apple eccetera. Questo è un primo fattore che cambia col cloud. Se vogliamo agli albori il cloud è uno strumento per velocizzare gli approvvigionamenti di materiale informatico come se fosse lo storage o la potenza di calcolo eccetera. Il secondo aspetto è culturale, è la transizione che ci arriva dal modello anglosassone da un concetto di proprietà a un concetto di affitto, un concetto di uso. Questa è la seconda cosa per il quale il cloud è un veicolo importante. Allora, fatta questa premessa su quali sono le sfaccettature del cloud, che è un tema enorme ovviamente, che però ci interessano, vediamo questo come si proietta sul discorso del modello as a service. Prima di tutto a livello teorico osserviamo non soltanto nell'information technology, che oggi è un settore che materialmente trascina il mondo, ma osserviamo che c'è una modellizzazione di quello che è il modello as a service nel concetto teorico della servitization. La servitization è la tendenza in tutte le industrie che è di trasformare un prodotto in un servizio. E il cloud è stato un enabler fondamentale di questa transizione, che ripeto, riguarda ormai un modello di business che si vede ovunque. Restando però in quello che è il territorio che a noi interessa di più, per il mestiere che facciamo e per quello che ci dobbiamo fare ogni giorno, il modello as a service ha diversi tipi di declinazione. Questo è un altro tema che non sempre è chiarissimo. Ragioniamo, cominciamo a parlare degli estremi e cerchiamo di usare anche qui delle metafore o degli esempi pratici. Abbiamo a un estremo il modello cosiddetto di infrastructure as a service, quindi l'OIAS, e l'altro estremo abbiamo il modello di software as a service. Quando parliamo di infrastructure as a service, noi invece di osservare da solo lo storage o da solo la potenza computazionale o altri aspetti importanti per chi fa information technology, oggi, guardiamo l'aspetto infrastrutturale, cioè come questi singoli elementi, queste singole necessità vengono coordinate in un'infrastruttura. Pensiamo al terreno su cui piantare una nostra piantina, è una somma di ingredienti, di componenti fatti in un certo modo affinché la nostra piantina cresca. Dall'altra parte guardiamo il modello software as a service, è un'altra estremità. Se nel modello IAS io ho il terreno ma poi il seme della piantina e l'innaffiare la piantina sono cose che spettano a me, nel modello SAS è tutto già pronto, c'è la mia foglia di basilico pronta per essere messa sulla pasta. Nel modello SAS, raggiungiamo anche per esempi, i più celebri nel mondo enterprise sono tipicamente Office, quindi Office 365 oppure Gmail, però non dobbiamo pensare che siano soltanto componenti diciamo di produttività di base o ferri del mestiere come oggi chiamiamo queste cose come la posta elettronica o i software di base di produttività. Spotify, Netflix sono due esempi molto più consumer, molto più reali per tutti noi, anche per quelli che sono meno avvezzi a parlare di informatica ma che riguardano la vita di ogni giorno, quindi ecco un po' i due estremi. Peraltro, adesso abbiamo parlato di software as a service, però c'è anche quell'altra declinazione che, come dire, soprattutto per l'ambito assicurativo va per la maggiore, fammi dire, quello che si dice platform as a service, è la stessa cosa, secondo te quali sono le differenze fondamentali? Io che non sono un tecnico molto, non sono un tecnologo molto ferrato, ci ho messo un po' a trovare una storiella, una metafora, un esempio che mi potesse aiutare e quella alla fine quando ci siamo confrontati, forse quella lì più facile è la macro di Excel. No, noi abbiamo Excel che è uno strumento office che siamo abituati ad avere nuove versioni e man mano che ci sono delle innovazioni installiamo nuove versioni così come installiamo una nuova app sul cellulare e va avanti. Però ci sono delle componenti che facciamo noi, ci sono dei calcoli particolari che sono le macro che sono materialmente quelle di Excel. Tornando al nostro orticello, a quello di Guideware, un approccio totalmente software as a service su una piattaforma assicurativa, sappiamo bene che per fare assicurazioni ognuno lo fa in maniera diversa, è un business complesso, un business molto regolamentato in maniera diversa nei vari paesi, prescindere dalla capacità di intervenire con delle modifiche sul software sarebbe utopistico, non è una cosa, non riesci a mettere a terra un sistema assicurativo se non è la possibilità di ottenere una configurazione. Quindi diciamo che platform as a service è probabilmente un modo più proprio per parlare di quello che facciamo noi. Sì, quindi possiamo andare a potenziare il servizio con tutte le personalizzazioni che sono proprie della specifica realtà assicurativa. E a questo punto ovviamente ci viene naturale e chiederci, prima avevamo un approccio un po' più self-managed, on-premises, adesso con l'approccio as a service quali sono, se vuoi, anche i vantaggi, soprattutto probabilmente a livello di business di una soluzione del genere? Allora, qui io partirei, anche in questo caso partirei facendo un piccolo passo indietro, anche qui culturale. Tendiamo ad avere una considerazione del software che secondo me è obsoleta e non è al passo con quello che il software è. Senza andare a citare Andresen Horowitz, quindi software is eating the world, tutta questa teorizzazione. Io credo che sicuramente nel nostro paese, ma in generale in ambito enterprise, intendiamo il software ancora come un videogioco, non ne abbiamo rispetto. Che vuol dire non ne abbiamo rispetto? Anzitutto perché l'imputato secondo me di questa mancanza di rispetto è che il software è un qualcosa di immateriale e il cui costo marginale è pari a zero. Vendere una licenza software a un soggetto, venderne due, a due soggetti diversi, di fatto non ha un costo ulteriore. Quindi tendiamo a semplificare troppo. E una cosa che ci capita molto spesso, perché volevo dire questo? Perché una cosa che ci capita molto spesso è che quando si parla di valore di business è che l'aspettativa è che ci sia una funzione. Prima ho fatto il parallelo col videogame, perché è come se ci fosse, compra questa cosa perché c'è un livello in più, un quadro in più, una funzionalità in più. In realtà il software è un linguaggio, è un mondo, è un qualcosa che tu, anche da un punto di vista di business e non prettamente tecnico, di sviluppo tecnologico, è un qualcosa che trova la sua funzione nel suo insieme. E noi non siamo ancora capaci, secondo me, di misurarci con questa realtà. E quindi tendiamo ad entrare in questo cortocircuito per cui il valore di business deve essere insito in qualcosa che cambia il business, che lo rende diverso. In realtà il software, il valore di business del software è, secondo me, quello di consentirci di restare aggrappati a un mondo che cambia a una velocità impressionante. A me la prima metafora che mi viene in mente quando guardo gli anni della mia maturità, gli ultimi vent'anni, è la palla di neve. Cioè noi siamo in uno scenario, in una situazione in cui anno dopo anno si vede un'accelerazione sempre maggiore, come la palla di neve che scende lungo la montagna, che si ingrossa e quindi continua ad accelerare la sua discesa. E quello che vediamo è che diventa complicato stare aggrappati a questo cambiamento. E un'altra cosa che, diciamo, da questo punto di vista mi fa pensare, mi fa esordire in questa risposta dicendo che non abbiamo rispetto verso il software, è che stranamente siamo molto più propensi ad accettare la realtà di dover restare aggrappati al mondo che cambia. In altri contesti, ti faccio un esempio, la transizione verso l'auto elettrica. Noi oggi siamo abituati a trasformarci da doers, da persone che fanno a persone che usano. Io ho preso la patente più di vent'anni fa, ovviamente mi avevo messo a disposizione una macchina vecchiotta ed ero pronto, venticinque anni fa, a immaginare di avere una bottiglia d'acqua per mettere l'acqua nel radiatore se succedeva qualcosa, a vedere il livello dell'olio, a fare delle cose minimali. Oggi che guido un'auto elettrica, se mi si rompe lo schermo da cui faccio tutto, io non so più che fare, se non fare una telefonata e chiamare l'assistenza. Non so più dove mettere le mani. Perché le black box davanti alle quali siamo, cioè le cose che dobbiamo solo utilizzare senza pretendere di cambiarle, sono ovunque intorno a noi. E quindi il paradosso è, lo accettiamo in tutte le cose della nostra giornata, però facciamo fatica a accettarlo con il software in ambito enterprise. Eh sì, anche perché mi stai parlando anche di velocità, questo concetto di restare aggrappati. Mi evoca l'immagine di uno che ha cavallo e deve tenersi sulle briglie. Però, diciamo, fuori da questa metafora equestre, cosa vuol dire, qual è, come dire, in ambito assicurativo, cosa vuol dire restare aggrappati? Restare aggrappati, per il contesto assicurativo, significa prendere atto del fatto che ci sono dei cambiamenti in corso epocali. Cioè, una delle cose di cui, uno dei, ti faccio alcuni flash su quello che sta cambiando nel contesto assicurativo. Siamo assolutamente arrivati alla realtà del segmento of one. Cioè, riusciamo da un punto di vista di offerta a pensare qualcosa che è specifico per te. E questo contraddice, o non contraddice, va contro, comunque non si sposa benissimo col cardine del concetto assicurativo della mutualità. Quindi, probabilmente questo, a lungo termine, riflette un cambiamento di modello di un business che è così da centinaia di anni. Seconda cosa, ci sono nello specifico, senza andare a guardare a filosofia, ma reale, noi stiamo osservando sotto i nostri occhi che il business assicurativo sta cambiando molto nel suo contenuto. Vediamo che il business che ha dominato e che ha fatto la fortuna di moltissime delle compagnie assicurative mondiali, il business della responsabilità civile, il business mandatorio sul mondo auto comincia ad essere, non dico un brutto business, ma comincia ad essere un business in cui le compagnie non riescono, soprattutto se i tassi di interesse non aiutano, non riescono a fare profitto. Diversamente bisogna, ti sta assistendo quindi a uno shift verso altri rischi rispetto alla composizione della raccolta premi di una compagnia. Ma questi altri rischi talvolta non rispondono neanche a quelle che sono le regole del gioco basilari delle assicurazioni, ovvero osservare il passato per predire il futuro. Che osservi il passato su un rischio cyber di ransomware? Non esiste un passato lì. Lì devi inventarti un modo per capire qual è il rischio senza avere a disposizione nulla del passato. Quindi di fatto, restare aggrappato nel business assicurativo significa capire che sei in un'estrema trasformazione sul mondo assicurativo, devi restare aggrappato. E come resti aggrappato? Principalmente le assicurazioni sono organizzazioni complesse. In quanto organizzazioni complesse hanno dei dipartimenti che spesso noi chiamiamo in maniera critica come silos, eccetera. Una delle dualità più ovvie per chi osserva il contesto assicurativo da tanti anni è quella che è l'approccio tra business IT all'interno delle compagnie, che spesso è un approccio conflittuale, perché hanno giustamente e normalmente obiettivi che sono diversi. Ecco, restare aggrappati al futuro e al cambiamento vuol dire probabilmente riuscire ad avere un mindset in cui questa conflittualità si trasforma in convergenza. Quindi business IT riescono ad avere un'intersezione maggiore di quelli che sono i loro obiettivi. Come si fa questo? Ovviamente richiede determinati tipi di meccanismi di adeguamento. Uno è l'esercizio, per esempio, l'esercizio della delega tradizionalmente. L'information technology è sempre stato uno strumento a cui abbiamo chiesto o maggiore produttività o cercare di far fare delle cose meno interessanti o meno importanti o meno decisive tenendo per noi dei lavori più alto al valore aggiunto. Riuscire a restare aggrappato a un mondo che va sempre più veloce vuol dire concentrarsi sulle cose che contano per essere più veloci e più agili, dove agile vuol dire cambiare in maniera rapida e repentina. Per fare questo è necessario che ci sia una convergenza e quindi un mindset diverso. Se voi nella teoria, ho parlato di agilità come capacità di cambiare direzione velocemente, ma agilità vuol dire anche una filosofia di sviluppo, un approccio alla gestione di quelle che sono le implementazioni a livello informatico. Si contrappone al mondo tradizionalmente noto come waterfall. Nel mondo waterfall c'era qualcuno che l'output di un gruppo di lavoro e l'input di un altro. È chiaro che laddove si supera questa dicotomia, questa catena e si lavora insieme su un obiettivo comune, si presuppone che se è fatto bene questo percorso, questo circuito, se è più veloce, se è più agile. Grazie Marco. Appunto sono tutti spunti importanti, spero che mi avresti dato soddisfazione in queste discussioni anche di ambito filosofico e quindi vedere come appunto la piattaforma e il servizio diventino degli abilitatori per fare tutte queste cose. Qua ci fermiamo per oggi e diamo appuntamento al prossimo episodio di G-Tech. Vi aspettiamo, non mancate.